Da un po' di partite Juric ha deciso di cambiare modulo quindi è deciso di passare da un 3-4-2-1 a un 3-5-2 La problematica però che si apre al Torino è appunto derivante dal fatto che non è una rosa costruita per giocare contro le centri di centrocampo Quindi se tu già non è tantissimi uno magari va in defezione quindi o squalificato o infortunato è già emergenza L'abbiamo visto anche con Ricci Inoltre si va a incastrare il tutto con la problematica riguardante Radonici un giocatore che sembra essere sull'uscio Dopo anche l'ultima dichiarazione, l'ultimo commento insomma se non ricordo male su Instagram che è scritto Until the end quindi che riprende fino alla fine Juventino Quindi non si sa se l'ha scritto in modo un po' provocatorio o semplicemente un until the end detto così Insomma un giocatore che è stato messo un pochino alla porta, pare quantomeno essere messo alla porta Che potrebbe lasciare la squadra a gennaio Ma già nell'ultimo video mi avete scritto di un nome che è entrato in orbita Granata Quanto meno Ipsed Ixit, scrivono un pochino i media vicini al Torino e anche non Va a dire quello di Jurgen Ekelenkamp, classe 2000, centrocampista centrale e appunto di lui vi andrò a parlare in questo video Perché è un qualcosa di molto funzionale al nuovo cambio di modulo Ma veniamo a noi, chi è Jurgen Ekelenkamp? Ekelenkamp è un centrocampista a scuola Ajax appunto classe 2000 che ha vissuto tutta la trafila Delle squadroni dell'Ajax per poi insomma debuttare in prima squadra Nel 2021 viene ceduto per 3 milioni di euro a Lerta Berlino Ma dopo soltanto un anno si trasferisce per una cifra attorno ai 4.5 milioni e 5 milioni All'Anversa Un'Anversa che sta, che ha vissuto insomma nella stagione 22-23 Una delle migliori che ha potuto vivere perché insomma è stata sempre nelle parti alte classifica E questa stagione sta facendo non bene come la scorsa ma la sta comunque facendo molto bene Grazie alla guida di Mark Van Bommel e il dettore sportivo è Mark Overmars Anche lui olandese ex Ajax Ma perché un giocatore così ha lasciato soltanto dopo un anno l'Aerta Berlino? Semplicemente perché è stato un anno veramente orribile per i tedeschi Perché in un anno hanno vissuto tre cambi di allenatore E quindi Ekelenkamp che è successo, che è partito bene con Dardai Poi non è stato più visto dall'allenatore successivo e dopo con Magath l'ha impiegato un pochino col contagocce Un giocatore di 188 centimetri che in stagione con l'Anversa ha giocato 24 partite mettendo a segno 4 gol e 2 assist Dalla muscolatura non ipertonica però comunque molto importante Lui è veramente un colosso E secondo me lui non ha, non è mai stato valorizzato in relazione alla sua velocità non proprio fulmina Perché comunque ha un grosso peso a portare Derivante da altezza, muscolatura e evidentemente anche le ossa Perché uno che fisicamente soprattutto gli arti inferiori è abbastanza robusto Non è un devasto come Michael Antonio Giusto per dirvi quel tipo di fisicità Anche se Michael Antonio è più bassino Però insomma ha del peso da portare questo giocatore e diciamo che non è mai stato un fulmine di guerra Né sul breve né sul lungo Non si può definire un giocatore veloce Ma questo deficit lo compensa con il senso della posizione e con l'inserimento Perché è un giocatore tatticamente molto 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 intelligente Che negli anni ha giocato sia da mezzala che da trequartista Da mezzala in un 4-3 e da trequartista in un 4-2-3-1 Poi i moduli che veniamo utilizzati all'Ajax e poi anche all'Ambersa in modo alternato È un giocatore che di piede destro appunto Che ha una grande sensibilità di piede È un giocatore che è di geometria ma è anche di inserimento Deve migliorare un pochino sotto porta perché secondo me questo è un pochino il suo problema Un giocatore con la sua tecnica, con il suo senso di inserimento Deve assolutamente insegnare di più e deve essere più incisivo lì davanti Un giocatore dal carattere diciamo mite Non è il classico olandese prorompente Un po' della generazione appunto di Zitze, di Bakker Giocatori che non sono, non hanno quella cazzimma insomma dei vari Davids O anche dello stesso Overmars o di tanti altri giocatori olandesi che insomma hanno calcato I terreni di B-Club Qui insomma un giocatore che ripeto caratterialmente può crescere Deve svilupparsi Dopotutto ha soltanto 23 anni, fa 24 anni l'anno prossimo Quindi ha un pochino quei margini di miglioramento Sebbene non sia ovviamente il giovane, il giovanissimo in questione Siamo parlando di un classe 2000 ma i margini di miglioramento sono ancora tanti E secondo me un qualcosa che è venuto a meno al Kellenkamp è la fiducia Perché in primis ha vissuto l'anno in prima scuola dell'Ajax Quando avevi un Gravenberg da lanciare, un Timber Un Davy Klassen che era un titolare inamovibile Che in quella stagione segnò il direttore 12 gol Dopo la cessione all'Erta Berlino e dopo il problema con l'Erta Berlino Ora l'Ambersa comunque sta facendo bene E secondo me per lui è giunto il momento di tentare il passo ulteriore Perché insomma un eventuale passaggio al Torino potrebbe essere un boost importante In più non scordiamo anche che lui è molto amico di Perscurs Perché comunque si sono affacciati in prima squadra, bene o male nelle stesse annate E hanno setto questo bel rapporto Da non sottovalutare poi il discorso della gente Perché chi gestisce il calcio di Kellenkamp è la CAA Stellar Quindi Jonathan Barnett Che nella città di Torino ha dei bei giri Perché comunque gestisce Cesni, gestisce Fagioli Insomma a Torino è ben conosciuto Barnett Ma ora vediamo un pochino, ha un po' di statistica Appunto come vi ho detto 24 partite, 4 gol e 2 assist messe all'effetto in stagione Un giocatore che ha l'85% di precisione passaggi Precisione che va diluita in passaggi corti, medi e lunghi 88.6% di precisione nei medi, nei corti scusate 90.1% nei medi e 72.9% nei lunghi Un giocatore che sa giocare con la squadra Ha ottime percentuali di precisione di passaggi E soprattutto gioca tanto appunto sui corti e sui medi Quindi un qualcosa di molto importante in un'ottica del Torino Un giocatore che ha vinto il 55% dei tackles E la maggior parte di quali insomma le ha messi in pratica diciamo così a centro campo 50% di successo nei duelli 47 recuperi palla E' importante, quantomeno interessante il discorso dei blocks 10 totali, 2 su tiri ma 8 su passaggio Come vi ho detto prima è un giocatore tatticamente intelligente Che sa posizionarsi, che sa proporsi Un giocatore che molte volte viene considerato come se fosse un fantasma Nel senso che viene calcolato in parte Però tranquillo tranquillo sa trovarsi la sua posizione Un buon senso dello smarcamento Riceve palla e poi gestisce la giocata Un giocatore che vi ho detto è destro di piede ma Non disdegna a sinistro eh Poi lui principalmente è un destro Vedendo anche i tocchi di palla La maggior parte lui li esegue A centro campo e nel terzo offensivo Cosa molto importante Ma anche nel terzo difensivo Attenzione Non sono per niente pochi quelli che fa Tenendo più alto in considerazione le caratteristiche del calciatore Quindi un centrocampista centrale offensivo Diciamo che è un ottimo box to box Sa bilanciare il suo stile di gioco Mettendo ovviamente le sue caratteristiche principali Quindi ad esempio come vi ho detto L'inserimento Il tocco del pallone E anche la capacità di posizionamento Non è un driblomane Questo sia chiaro Sui due l'aeree un pochino deve migliorare Perché soltanto il 29.6 per un altro 1.88 Non è proprio un granché Però comunque Secondo me può migliorare anche da questo punto di vista Deve utilizzare meglio il fisico Diciamo così Riguardo i tiri In stagione In campionato ovviamente 33 totali 8 in porta Percentuale di precisione 24.2 Ecco perché vi ho detto che può migliorare assolutamente In questa percentuale E tiri a partita 2.54 Quindi Se tira così tante volte a partita Quindi 2.54 Però Soltanto 8 tiri in porta Sui tentati totali E soltanto 4 gol In 24 partite Ecco questo Questo fondamentale Quindi il tiro in porta Della precisione Unito al fatto Di saper utilizzare il fisico Ecco sono due cose che Deve migliorare A mio avviso In un contesto Torino In un contesto Torino Io lo vedrei benissimo Onestamente Per la tipologia di caratteristiche Perché manca al Torino Una mezzala di inserimento Che sappia sfruttare gli spazi Adesso Via Vlasic O meglio Vlasic viene utilizzato In quella parte di campo Ma Vlasic Non è una mezzala È un tequartista puro Fisicamente sono completamente diversi Nel senso che comunque E' che L'Inkamp E' molto più centrocampista centrale Rispetto a Vlasic Perché comunque Che L'Inkamp Ha sempre rivestito quel ruolo Ha anche rivestito quel ruolo Vlasic Te lo sta rinventando In più E' un destro che utilizza bene il mancino E va bene Ci può stare Darebbe fisicità Darebbe appunto Inserimento Non dico tanto dribbling Ma Posizionamento Saper girare A tornare di rigore L'unica cosa da vedere È il prezzo Perché se comunque L'Anversa Un anno e mezzo fa L'ha preso 5 milioni Ecco Dubito che te lo lasci Andare in prestito O magari Una cifra pari Tutti i nomi Che sono fatti Anche Sebastian Caceres Adesso Kenenkamp Bisogna sempre vedere Se e quanto Cairo Voglia Vorrebbe spendere Somma gennaio Questo è il quid Principale Al netto comunque Bisogna vedere Anche per quanto riguarda Le uscite Perché magari Non tutti I giocatori Rimarranno al Torino Nell'ultimo video Abbiamo parlato di Radonic Di Sec Avevo citato di scordare Di citare anche Caramò Sarebbe da vedere Comunque Le priorità del Torino Secondo me sono Un centrocampista centrale Un esterno-sinistro A tutta fascia E come Priorità bis Un centra difensivo A netto che magari Gigi è quello che è Zima Viene da un lungo tempo Di infortunio Così come Gigi Insomma magari Ecco Rodriguez Nel'ultimo è anche giovanissimo E quindi Un sostituto Per alcuni giocatori Dovessi trovarlo Magari appunto Di 25 26 24 anni Ma ripeto Tornando a Kellencamp Lo vedrei Per caratteristiche Un acquisto per il Torino Vediamo poi Se le cifre Renderanno Cairo Ben disposto A sborsare qualche soldino Fatemi sapere ovviamente Qui sotto Cosa pensate Vi mando un abbraccione Ciao al prossimo video Ciao ragazzi Ciao al prossimo video Ciao al prossimo video Ciao al prossimo video Ciao al prossimo video